A giugno nuova tornata elettorale per i cittadini di Sondrio, chiamati alle urne per scegliere un nuovo sindaco. La data non è ancora stata fissata ma la campagna di voto, iniziata nei giorni scorsi, si pronuncia movimentata e senza esclusione di colpi. Tre i nomi e i nastri di partenza per la gestione di Palazzo Pretorio, Nicola Giugni, Fiorello Provera e Marco Scaramellini. A loro l'onere del confronto sulle esigenze dell'elettorato, che sono davvero molte, dalla questione strade, ad una maggiore attenzione per le cosiddette fasce deboli. E c'è chi sogna una Sondrio diversa. Mi piacerebbe una Sondrio in bicicletta, con meno macchine. Un po' di verde magari in questa piazza, un po' spoglia, qualche panchina, perché vedo che gli anziani cercano sempre dove sedersi. Se sono in molti ad immaginare una città più verde e meno inquinata, altri chiedono semplicemente meno ostacoli nella vita di tutti i giorni. Vorrei chiedere che vengano annullate le barriere architettoniche. Fra i problemi che il futuro sindaco sarà chiamato a risolvere è anche la scarsa qualità del fondo stradale, indicata come problematica principale da numerosi intervistati. Di asfaltare le strade della città, perché ci sono delle strade che fanno paura. Via Marcello, dove sto io, è una roba allucinante. E lì è un posto dove arriva un mare di gente che da fuori Sondrio, perché ci sono i commercianti. Strade senza buchi. Bisogna far fare l'asfalto. Chi è capace di farlo, che sia duraturo. Sono i più ottimisti a mettere l'accento sulla buona qualità della vita del capoluogo, augurandosi che la futura amministrazione prosegua sulla strada tracciata dalla giunta uscente. Io chiederei fondamentalmente che si vada avanti con questa buona qualità della vita. Mi sembra che Sondrio sia un posto molto carino anche dove vivere. Perciò io mi auguro questo, che ci sia sempre una cura per le persone, per l'ambiente, quello che c'è fino adesso.